Ho iniziato a seguire il corso di Giada, per caso, attraverso delle video lezioni all'inizio gratuite che avevi lanciato te per presentare il tuo corso. Da lì ho detto, Madonna, che belle lezioni! Ho capito subito che erano fatte apposta per incriare il mio background, quindi ho detto, come dicevi te, ho investito su me stesso e ho iniziato a seguire le lezioni per, appunto, trovare un nuovo lavoro, perché all'inizio io facevo qualcosa che non mi soddisfaceva appieno. Grazie alle tue lezioni ho imparato a usare Revit e quindi ho potuto cambiare lavoro e ora sono in uno studio di consulenza ingegneristica e riesco a usare Revit abbastanza bene, ovviamente prima purtroppo non lo utilizzavo, ora invece riesco a utilizzarlo tutti i giorni. Piano piano riuscirò poi a avere una pradonanza come la tua, che visto che sei bravissima, quindi ovviamente se tu lo usi tutti i giorni, io invece l'ho iniziato da poco fondamentalmente perché ho ritrovato lavoro dopo un mese e mezzo, preciso proprio per l'inizio di quarantena. E quindi niente, sono molto contento di aver seguito il percorso insieme a te.